ciao ragazzi finalmente siamo tornati con un nuovo video dove io spendo tutti i soldi che ho che guadagno con il mio povero stipendio oggi mi sento bello confidente nella mia vestaglia non cagate il cazzo perché non me la leverò farò il video in vestaglia così sto bello comodo mi sento a casa e non penso a quanti soldi ho speso anche a sto giro detto questo vi ricordo che questo video come tutti gli altri che trovate sul mio canale tranne un paio sono sponsorizzati da card trade corner che magic corner ma cambiato nome vabbè però comunque il codice sconto 2023 cappello è sempre valido e potete ottenere il 10 per cento di sconto su carte singole e o prodotto sigillato inoltre se volete entrare in questa serie praticamente vi ricordo che se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece forso will trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi e se avete qualcosa di cui volete liberarvi compro praticamente il tutto ovviamente al giusto prezzo però considerando la longevità di questa serie pago bene comunque abbiamo da vedere quei mucchi di merda lì e due lotti che ho qua diciamo in tutto questo periodo ho preso cose a caso c'è lotti piccoli e dei lotti medi che ovviamente farci un video per ogni roba era impossibile quindi accorpiamo tutto e vi faccio vedere spoiler sto trattando per un altro lotto che ha cose molto interessanti e andiamo con il primo mucchio di merda le common ve le schippo perché ragazzi non voglio stare qua sei ore allora primo lotto noto un'ingente quantità di merda aspetta questo era il lotto era il mucchietto mezzo interessante allora a parte teleport yowie che comunque è una carta incredibile e da lure all'interno di questo canale abbiamo ok della roba punk base punk drago arcobalino maligno che comunque non è male poi pachicefali curioso che comunque continuo a venderli come gli archi fibra x vabbè unicorn gradiatore bestia rocce 101 da pack questo stava a 50 euro ragazzi ma voi che cazzo ne sapete che siete giovani poi base punk due teleport qua beh red ice flare metal dragon da gold che non è male poi capro delle tour dei maligni così tanto per ride e basta allora qua abbiamo delle falce roba di ghost from the past vergognosa dovrebbe essere delle chimera frammento all'interno ma l'inizio definisce la roba interessante ci dovrebbero essere in mezzo anche delle robine carine però diciamo che la maggior parte erano rimasugli di cose a caso il mucchietto di carte un pochino più interessanti che stanno qua ve le faccio vedere alla fine almeno così vi obbligo a rimanere almeno fino a quel punto abbiamo niente assolutamente niente roba da ghost from the past a me come prenderà mai voglia di caricare sta roba allora roba di ghost from the past bene bene è proprio bella vergognosa allora prima o poi le caricherò le venderò e aprirò partita iva sarebbe incredibile ma attualmente non ho tempo neanche di vivere di respirare incredibile anche se oggi devo studiare ma non ho studiato non so avrei dovuto farlo ma mi giravano i coglioni per una cosa che è successa quindi non ero molto motivato a fare cose ho spiegato il mio tempo a guardare i reels su youtube e aprire instagram va bene allora un libro delle crisi ragazzi questi video mi servono anche per lamentarmi non rompetemi i coglioni drago fantasma monaco del teni questo qui bello carino che è da op 3 dive in boh francese no francese sto andando abbastanza veloce perché nel senso vorrei che questo video durasse un minutaggio abbastanza giusto e non 63 minuti di nulla uh belle 3 terreno flandris che boh tipo ne ho troppe poi uno spolverino o segnalibro dark ruler queste che stanno tipo a 3 euro cad insensate poi questo carino questa da pacca anche carina al kifi brax cavaliere l'incubo c32 ultimate in seconda peccato e non mdm ovviamente romwex poi queste due palesemente distrutte comunque ragazzi non so quando uscirà questo video ma oggi è il primo febbraio e praticamente francesco non lo sento da una settimana e mezzo motivo ha trovato una tipa perché verso l'ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto eh mi sto sentendo con una sparito totalmente gli ho mandato delle robe su whatsapp così per me ma poi gli avevo scritto per delle robe zero gli avessi chiesto di registrare video neanche morto gli avevo chiesto no gli avevo mandato un video delle dragon made totalmente sparito abbiamo una pietra nera della leggenda molto carina poi dragon imperatore il caos emissario alla fine ex bellino quindi vi dico il podcast tornerà ma per adesso siamo solo io e michele probabilmente per quando uscirà questo video francesco sarà tornato almeno lo spero perché mi deve anche 40 euro però fino ad allora siamo in due comunque anche michele è sparito ok lui è scusato perché lavoriamo insieme e lavoriamo nella stessa azienda e attualmente siamo oberati di lavoro tutte e due quindi lui ovviamente come io ho questo come altro lavoro e la vendita di carte quindi ne ho tre anche lui ne ha altri due diciamo che a livello dei tempistiche non siamo messi molto bene comunque abbiamo anche questo drago polvere di stelle nm meno però molto bellino peccato sia in seconda e quindi vabbè lui è scusato adesso torneremo a fare i video insieme a metà febbraio abbiamo poi allora un macrocosmo pleiades braccio arsenale luce consacrata e uh guerriero trapano questo da dallo stesso set esce anche ultimate da 50 euro follia vediamo qua uh bello questo mai visto in vita mia poi per quanto riguarda invece dei bellissimi contenuti convergence forse ne avete già visti probabile anzi vi chiedo come sono andati i video convergence mi sono piaciuti perché a febbraio il primo di febbraio mi è venuto in mente di scrivere a vergence di fare contenuti insieme almeno così da su carli un po di iscritti visto che siamo appena arrivati a 2100 e questo non è il video speciale allora abbiamo due mondo zombie chiamato ultra allora per il resto qua te dirò uh bello quello che mancava di costoso di punk numero 32 doppia doppia utopia il meteorologico più bello del mondo emerald s39 questa bella cartina riuscirò mai a averci tutto il no l'archetipo come cazzo si chiama tutto il reparto assolutamente no poi roba punk e volpina la cosa divertente è che non c'ho il mazzo completo perché mancano due volpine mi sembra un orco se non sbaglio quindi non vi preoccupate michele ha comprato tutto punk quindi avrete la decliss anche di quello perché ok siamo indaffarati ma lui sta testando e io e io piango allora 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 arriviamo sulle ultime cose perfetto niente ragazzi oggi sono in vestaglio oggi sono proprio depresso mi girano proprio i coglioni quindi quindi ve lo stoccate così il video io incazzato un po in ombra perché mi si è fulminata un'altra lampadina e basta allora ci stanno un po di teni al contrario l'oracolo di zero secondo me terreno fortissima uh corruzione vabbè per bloccare la zona la terreno avversario con set rotation andiamo con le ultime abbiamo centauria la cosa divertente un tipo me l'ha comprata una centauria da pack mi ha chiesto ma ce l'hai la reprint io ho detto no ma non ce l'avevo perché queste l'avevo lasciato in fumetteria perché mi avevo dimenticato il borsone quando lo sono andato a riprende ho trovato tipo qua dentro tipo 20 centaure 20 no però ce n'erano 4 5 però sto contento tutta sta palta ce la siamo levata dai coglioni andiamo a questo che ragazzi vi farà piangere tutti soprattutto chi è nato nell'era zexal allora con le due carte ragazzi vi lascio alla fine è una cosa dura da digerire non è per tutti allora abbiamo numero 62 un nibiru in francese drago fonte della vita bellissimo altra carta che voleva francesco ma io gli devo dare anche delle carte che mi ha fatto comprare 6 centesimi di carta e mi deve pagare anche quelle poi abbiamo una gamba del proibito abbiamo swan il firefist un altro braccio carte a casa io comunque tutti gli imperial order che trovo li prendo perché io ci credo che prima o poi la konami dirà ma te dirò secondo me imperial order dovrebbe tornare secondo me prima o poi faranno un imperial order tipo alla decretoriale poi questi leviamo leviamo le anfora un braccio da lod l'unica cosa è che questa è la reprint non è lod vero e da cosa si capisce dalla foilatura che è anche dalla stampa che è nuova che si vede che non è quello vinta questo che ha dei difetti sul be molto bellino lo volevo mettere in collezione però ho visto sul market che si trova ancora a prezzi umani tipo 50 euro e quindi per adesso poi poi abbiamo che poi questo usciva dalla collezione leggenda se non mi sbaglio tipo mc m non mi ricordo cosa collezione poi due distruttore fotonico castel trisciula omega amaterasu spalla di rà che se ne avete altre due andate perché vorrei fare il play set per poterlo giocare drago fotonico in prima molto bellino kagutsuki f0 baxia ulti questo è molto bello drago metallico e combattente dame fusione bene ora ragazzi tenetevi forte perché vi faccio vedere due carte che vi faranno morire dentro il primo è questo assolutamente non vedete niente drago bianco occhi blu gold ghost in una qualità vergognosa e anche in una rarità vergognosa in senso è veramente brutto ci avevo un gorzo così e l'ho venduto se non ricordo male e l'altro tenetevi forte a voi amanti di x zexal guarda aspetta sento le urla dei giocatori che muoiono aspetta adesso forse sentirò ancora il suono più forte ho sentito uno che si buttava da un ponte porca troia ma io mi chiedo cazzo sbusti una carta ghost mi ha detto che l'ha trovata dentro il sacchettone d1 boh pagata 5 euro ma ora con le forbici dalla punta non la rotonda no allora andiamo ad aprire i pacchi non ricordo assolutamente più cosa ho comprato tipo boh mi sembrava di aver speso 100 euro una roba del genere parlato con toda ieri ha detto te sei pazzo io so matto io appena vedo delle figurine non è che do in escandescenza mi sale proprio le cioè mi si chiude l'avena qua e non capisco più niente le voglio porta a casa e quando un acquisto mi salta mi giro i coglioni perché dico porca troia 100 100 che ci sono dei mattoni dentro non mi ricordo da dove viene chi me l'ha mandato ma allora vediamo abbiamo un amon per me per me questi sono mystery box allora qua vedo delle ulti quindi teniamole per la fine mac fusoliera ma bello onesto dei boh token bello questo uncensored l'unica cosa è che da non uscita l'alarma c'è un flagello del cielo poi qua non c'è niente uuu cazzo bello questo questo tanta roba inizio a ricordare quello che ho preso sintonia il butta fuori da pack go dai oh c'è roba interessante potevo aprire ancora l'altro ma l'altro me sa che tutte comuni è golem di lava bello onesto black rose forse ho capito che lotto era qua dentro ci dovrebbe essere una hero live ulti se non sbaglio e quella cazzo è una bella carta l'unica cosa è che non mi sembra fosse nm e infatti eccola hero live ulti abbiamo proprio chiamata e vabbè queste le andiamo a vedere dopo dai o se no mi spoilerò tutto tutta la roba bella vediamo se tra le common c'è qualcosa allora andiamo con le magie tipo adesso esce una metamorfosi a caso anche se comunque non si gioca più in go tanto uuu belle queste queste drippano un botto fascino bello prigione dai dai così queste sono le common che mi piacciono peccato per le necro valle se ci fosse stato un bel play set volavo perché non ce l'ho per me allora forza riflessa frattura ma qua vedo la questione molto più scarna e povere poi poi vediamo i mostri ai mostri potrebbero da me veramente tante soddisfazioni a qualcosa per got così per rido per edison per la collezione ma un chico pattuglia stradale stigia ma chirone vabbè poi 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 vabbè no credo che qua non ci sia più niente andiamo col pacchettino figo abbiamo un po di immortali terrestri ulti uru cia cuccialla poi cusillu cacciatore di opzioni vabbè ultimamente a caso lancia guanti scrap twin dragon alieno guerriero raggio notturno visto tempi migliori tragedi che è una carta fighissima mio parere numero 20 che non sta niente goblin fuori dalla padella e goblin fuori dalla padella poi abbiamo qua ragazzo diamante ulti questo è il mio eroe del destino preferito peccato mi sarebbe piaciuto averci l'annem e un aerolive anche questa bella hard in prima edizione excellent però è una bella carta va bene dai me lo ricordavo più brutto sinceramente non ricordavo assolutamente cosa ci fosse quindi top adesso andiamo all'ultimo lotto che mi è arrivato e sincero non ricordo più neanche cosa ci fosse qua dentro considerando che l'ho tipo comprato tre giorni fa dovrei andare a riguardare il video ma il senso chi me lo fa fa allora andiamo prima con queste che ci potrebbe essere ho visto già una polusa che nel senso è bella onesta eh ah sì c'era una base su ship ragazzi chi vuole una base su ship mi contate allora dopo dovrò pulire di nuovo sto sempre a pulire qua dentro camera è incredibile allora base su ship prega niente a nessuno poi una a poluso da mamma un incubo fenice cerbero di verna frammento al mirage link curibo gardana e vorzaldolca laggia bagusca 60 dugares ottimo anche questo abitante l'abisso dweller gallant e natura bestia e omega te dirò niente ma vediamo qua abbiamo un paio vabbè lui che è la carta più bella dell'universo poi tut gamma dovrebbe esserci un play set se non ricordo male arcosauro vabbè veiler altri due gamma un altro arcosauro bls arci dame c'è un trucco ad un periodo che sta carta stava a 50 euro adesso non si l'ha in culo neanche la madre liquid ottimo così c'ho il secondo temo gli slips che te dirò una carta da 8 euro e comunque ragazzi è penso uno degli euro più belli che abbiano mai fatto adesso andiamo a vedere ci dovrebbe essere la roba bellina comunque ragazzi più ne vendo no più ne vendo più nel regalo più me ne arrivano non ne posso più garage c'è no una scatola infinita cioè se qualcuno vuole venire a casa mia e prenderseli faccia con co allora abbiamo calice ricastro essenza contro gozen aria di non fusione vabbè diciamo abbiamo moltante staples kelbec mudora agido è strano pensare che fino a boh considerando oggi che il primo di febbraio che fino a due mesi fa questi stavano a 35 euro adesso stanno a 1 euro e 70 stessa cosa questi no questi stanno a 4 euro però cazzo ne ho due case da aprire non so non so dove buttarli poi abbiamo verna silfide delle ogre e basta abbiamo dei libri dell'eclissi le spade mistificatrici abbiamo treni biru poi tre droll ma non ce n'era una da team e 9 valutata una troppo sti cazzi va bene calibro spada abbiamo vabbè cyber angelo benten una due dragonzelle ascia di distruzione ciclone cosmico twin twister vabbè merda un'altra ascia questa questa queste che sono bellissime queste sono commemorative per zexal ci stanno una cifra sono due poi peccato che non sono siled quelle poi va vabbè sepoltura torre dei duelli che non sta niente delle bestie cristallo e vabbè e andiamo con le ultime vediamo cosa c'è abbiamo boh altra roba da team questa da blcr forse a breve anche una decklist però mi dovrebbe mancare una carta costosina poi abbiamo alub questa in francese ma io che balluto roba in italiano vabbè idea del mondo sotterraneo latin l'ennesima poi 107 c107 un po' dei numeri a caso ma non siamo più nel 2010 numero 44 e basta oh bene ragazzi ho speso un'altra fracca dei soldi anche a sto giro anche sto anche sto mese è andato un po' poi vacca dai io continuo a comprare roba ma non ho tempo di caricarlo prima o poi verrò sbattuto fuori di casa io insieme alle mie carte bello 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 se andrò mai a convivere con la mia attuale ragazza o con un'altra attualmente sto bene c'è un amore boh sarà un problema avrò uno studio tutto per me e non vedrete più le carte del telo ma vabbè non è per adesso detto questo ragazzi fatemi sapere qua sotto con un commento se il video vi è piaciuto detto questo ragazzi state mesi a un like quello necessario vabbè state mesi e noi ci rivediamo mercoledì mercoledì c'è il podcast speriamo che sto mercoledì esca perché attualmente la vedo dura vabbè ci vediamo mercoledì sempre qua con il podcast ciao a tutti